Scusatemi, scusatemi per questo ritardo, ma mia figlia ha avuto la bellissimissima idea di fare tipo una delle più grandi cagate devastanti della storia e ho dovuto cambiarla al volo, quindi mi dispiace, mi dispiace moltissimo, però l'importante è aver fatto tutto, questa è la cosa più importante. Allora, grazie mille Spyro per la sub, grazie infinite. Continuiamo col Need News, quella di oggi sarà una puntata dedicata a Piaga, la scaletta di oggi sarà vedere Piaga, parlare della needs letter, parlare dell'iniziativa di Dune che sta finendo, della prossima iniziativa che riguarda Fallout che partirà il primo di aprile, e parleremo ovviamente anche della campagna di Mouse Reader che sta andando online durante il Need Play, ieri abbiamo giocato la seconda sessione appunto dell'avventura I Ratti di Campo di Grano, molto molto bello, parleremo anche delle Io Gioca Awards, grazie Marchino che mi ricordi, perché siamo candidati con un botto di roba, ma lo vediamo dopo sul nostro sito, e infine parleremo del progetto Camelot perché ci stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissime adesioni, una cosa folle, io personalmente non mi aspettavo una cosa del genere, e mi stanno arrivando anche a me tantissimi messaggi a cui rispondo uguale sempre a tutti quanti, quindi ne parleremo nel dettaglio. Allora, stiamo arrivando a 100 adesioni, dice Marchino, cioè ragazzi 100 adesioni sono veramente tantissime, non mi aspettavo, io personalmente non mi aspettavo una cosa del genere, Marchino che è più l'uomo dei numeri, Marchino ti aspetta anche tu una cosa del genere, sinceramente una partecipazione così grande? No, bene, guardate anche Marchino, cioè nel senso... Allora, inizierei a parlare di piaga. Perché voglio iniziare a parlare di piaga? Beh, innanzitutto perché... Anzi, vediamo la newsletter, scusatemi, seguiamo la newsletter. La tiro fuori, eh, ce l'ho da qualche parte. Eccola qua. Allora, innanzitutto, se non siete iscritti alla newsletter, molto semplicemente c'è anche il comando, Beh, zero, zero tuirudita ha messo su Camelo, però c'è il comando della newsletter che è questo qua. Hop. E se lo scrivessi bene... Dio la mia dislessia maledetta! Ecco qua, è la nostra newsletter, viene mandata due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. Il lunedì spiega tutti gli appuntamenti che ci saranno durante la settimana. Il giovedì invece c'è sempre un contenuto dedicato al GDR, c'è un approfondimento su qualche discorso. In questo caso qua, nella newsletter di questa settimana, c'è Piaga, con le parole proprio dette dal suo autore, che è Elios Poo, dal nostro direttore artistico, che è Giovanni, c'è anche qualcosa di mio. Non è, non c'è assolutamente spam e vorrei iniziare a parlare di Piaga. Allora, voglio leggere con voi l'articolo. Perché è molto, molto bello, va su Dungeon 24, Marco, quindi va benissimo, però ok, andiamo in news, andiamo su Piaga. Hop. Non c'è neanche Piaga, ma la grandissima! Eccolo qua. Allora. Zoomata della morte. Allora, ve lo, ve lo leggerò anche, perché è quello, è quello che... Che, così vedete com'è fatta la, la newsletter, lo vedete anche, anche voi. Allora. Come editori di GDR, riceviamo ogni settimana moltissime proposte di giochi originali, da autori, emergenti e nomi, che vorrebbero essere pubblicati da noi. Così, da parentesi, metto una piccola nota di Nicola. Capite magari in che modo presentarci i giochi. Noi spieghiamo sempre di mandarci un pitch. Qualcuno ogni tanto ha un guizzo in più, questo qua è il caso di, di Elios. Elios ci ha mandato il formato cartaceo stampato con una lettera scritta a mano e anche con il logo dell'Ordine della Morte in, in Ceralacca. Capite che, ed Elios è un nostro amico che anche, cioè, che conosciamo benissimo, che ha lavorato tanto con noi. Quindi, nonostante questo, ci ha fatto una presentazione che ci ha ovviamente intrigato molto. Allora, tornando a noi. Come editori di GDR, riceviamo ogni settimana moltissime proposte di giochi di ruolo, da autori, emergenti e non, che vorrebbero essere pubblicati da noi. Capiamo perfettamente che ogni progetto è scritto con la passione e con il cuore, ma come tutte le cose, alcuni giochi ci colpiscono più di altri. Uno di questi è stato proprio Piaga 1348, che ci ha subito colpito per l'estetica e l'immediatezza delle regole. E non solo per il fatto di aver potuto leggere una copia fisica inviata direttamente dall'autore. Le illustrazioni che vedete qua, era proprio il manuale di Piaga. C'è Piaga 1348, era la copertina e l'interno era come ce l'ava proposto Elios. Ma lasciamo le parole, ma lasciamo la parola proprio all'autore Elios Plus. Questa foto che vedete è veramente Elios. Ma, vabbè, chi conosce Elios non si deve... non si stupirà. Ciao, sono Elios Pu. Non è uno pseudonimo. Sì, ragazzi, si chiama davvero Elios Pu. Elios è il suo nome, Pu è il suo cognome. E se non mi conosci... Anzi no, vorrei parlare o vorrei leggere con la voce di Elio. Ciao, sono Elios Pu. Non è uno pseudonimo. Se non mi conosci, sono l'autore di diversi giochi di ruolo. Così parla tipo Elios. Però no, non ce la faccio, non riesco a imitarlo per bene. Alcuni usano come titolo la formula nome più anno e solitamente, parlando di quanto siano brutali e inutili le guerre. Con Piaga 1348 ho invece voluto cambiare la direzione, mixando elementi storici con elementi fantasy e sovranaturali. In questo medioevo alternativo, infatti, chi muore di peste, dopo poco si rialza sbavante come un cane rabbioso, in preda a un'incontrollabile fame di creature, vive da sbranare. Sebbene la violenza del tema non lo renda adatto alle famiglie, il mio intento è sempre stato realizzare un gioco di ruolo semplice e accessibile, dal punto di vista delle meccaniche, in modo che fosse facilissimo portarlo al tavolo. Tra le varie innovazioni, se così vogliamo chiamarle, c'è il fatto che il lavoro del master, qui chiamato l'Udi Magister, non solo è molto semplice, perché non ha preparazione, ma la struttura stessa delle campagne prevede che sia un ruolo a rotazione. In questo modo, anche i giocatori più timidi possono usare Piaga 1348 come palestra per allenarsi a inventare mondi da esplorare e mostri da scagliare contro i protagonisti. Già, i protagonisti. Chi sono costoro? Sono tutti membri dell'Ordine della Morte, una compagnia militare super segreta che ha lo scopo di eliminare la Piaga dei resuscitati dal mondo. I giocatori interpretano i soldati che ne fanno parte. Una curiosità. La prima stesura di Piaga 1348 è del 2021. All'epoca era ancora molto forte l'influsso della pandemia e sicuramente scrivere questo gioco è stato un modo per esorcizzare quel periodo così segnante della nostra recente storia. Guardate la bellezza di questo uomo. Non ho parole, io lo amo, ragazzi. Elios è incredibile. Ma c'è anche un secondo uomo. Ma perché non possiamo avere collaboratori semplici in giacca e cravatta? Non lo so. Noi siamo delle persone così normali. Allora, piccola premessa. Quando Elios ci ha mandato Piaga siamo rimasti subito molto, molto, molto compiti. C'ho una sete. Ah, ma c'ho l'acqua. Ottone, smetti di russare. Piccola parentesi. C'è Ottone che sta dormendo esattamente da 20 ore. Foto di prova. 20 ore che è così questo cane. Boh. Compratevi un buldo che vi terrà molta compagnia e potete sempre portarlo fuori per fare passeggiate e corse. Non è vero. Allora, cosa vi stavo dicendo? Quando ci è arrivato Piaga mi ricordo che ci è arrivato questo pacchetto io l'ho aperto e c'era appunto dentro il manuale di Piaga stampato in una prova e una lettera con la ceralacca scritta a mano da Elios dove spiegava appunto che lui era da un po' di tempo che lavorava questo gioco e avrebbe avuto il piacere di pubblicarlo con noi. Io ovviamente a parte avere un soft spot per Elios però sono mi piacciono molto specialmente nell'ultimo periodo i giochi no prep dove fondamentalmente gli dai una letta sommaria ti siedi e giochi. Li trovo molto fighi molto utili li puoi portare in giro mi piacciono i formati A5 mi piacciono che siano belli da vedere perché visto che non li devi sfogliare così tanto almeno quando ce li hai sul tavolo sono belli da vedere e se qualche giocatore lo sfoglia in pochi minuti può capirne tutte le regole. Ho iniziato a leggerlo e subito mi aveva colpito parlo a livello personale eh a livello personale però a livello personale da editore quindi lasciamo stare da giocatore che come sapete giocherà in qualsiasi cosa a livello da editore tanto che ho detto a Marchino che mi piaceva molto e che avrei voluto farlo mi sono piaciute svariate cose allora la prima vabbè è l'ambientazione molto molto italiana i nomi le avventure e via e via dicendo mi aveva subito acchiappato eh premetto a me non fanno impazzire gli zombie lo sapete non è proprio il mio tema principale ma è visto Marco Marco che mi conosce dice sono due gli zombie ma nonostante questo in questo caso qua mi piacevano molto perché è è una questione di non è il classico post-apocalittico pieno di zombie ma è un fatto di eh cosa sono questi zombie puoi giocarle in modalità diversa c'è solo eh ehm a goccia a chiazza o a a marea vuol dire appunto che c'è solo un caso isolato da una parte ci sono un po' di focolai in giro invece c'era l'apocalisse ma mi piaceva il fatto che ci fosse questo ordine della morte no? questo ordine cavalleresco segreto nel 1348 eh proprio formato dal papa che ehm andava in giro a debellare questa piaga dei morti un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è che in ogni campagna in ogni sessione volendo ma diciamo si fa nella campagna se si gioca di più si crea il papa e questo è molto importante perché il papa può avere dei difetti può avere dei vizi ha un carattere proprio quindi in base a quello si capisce già un attimino com'era la la chiesa no? se così vogliamo chiamarla in quel periodo quindi più leggevo il gioco più mi piaceva fino ad arrivare poi alla parte vera e propria delle meccaniche che è quella che mi ha mi ha proprio rapito ovviamente questo perché allora l'abbiamo visto anche non mi ricordo se durante il il need show o prima un secondo solo ragazzi che vedo di recuperare mentre vi parlo la scheda personaggio perché vedendo la scheda personaggio recupero sia la scheda personaggio che la scheda dell'Udi Magister che è la cosa migliore perché così facendo scusate mi è piaga vi faccio anche vedere cioè com'è che ci io personalmente guardo un gioco quando lo devo quando lo devo valutare no? qua siamo già uno step successivo perché sapete noi chiediamo sempre un pitch poi invece dopo il pitch invece chiediamo il gioco un pochettino più più strutturato questo è il caso del gioco un po' più strutturato non so perché mi sta ruotando la camera mettiamola fissa qua così non ruota più sta stronzetta ola così non ruota più la camera allora scusatemi è che ce l'avevo proprio qua materiale Helios schede pdf registro del magister perfetto e lo metto qua tacchete e poi scheda del personaggio perché magari alcuni di voi non erano con noi durante la live e che così ve la faccio vedere bene nel dettaglio allora eccoci qua questa è la scheda del soldato no? allora noi interpretiamo dei personaggi che fanno parte dell'ordine della morte questo oserei dire ordine cavalleresto bannate sta Kenna Daniel 91 sono già famous e eh mamma dopo lo vediamo lo swatch non so dirti adesso mi sono dimenticato mamma scusate che lunedì è il compagno del mio padre mi sono dimenticato del regalo da parlare però vabbè e quindi che cosa che cosa succede assieme ai nostri compagni di brigata siamo facciamo parte di questo di questa compagnia no? di ordine della morte e come potete vedere quando io vado a creare il personaggio è una cosa veramente velocissima e semplicissima oppo io che cos'ho? allora io ho un motto della compagnia notate che c'è anche il quadratino sono importanti i quadratini che io andrò a flaggare motto della compagnia può essere se non sei sicuro che sia morto uccidilo due volte faccio un esempio qualsiasi tipologia di motto la nostra vita è per il papa non ne resterà indietro nessuno uccidere duro sempre e via dicendo vi scegliete il motto tutti quanti i giocatori nel motto della compagnia avranno lo stesso identico motto il secondo il secondo è il nome quindi può essere non so Marco da Termopili detto il piccolo ok descrizione una descrizione del personaggio descrizione estetica una descrizione di com'è il personaggio e poi le due parti che mi fanno volare più di tutti armi e armatura perché nulla vivete a riscrivere non lo so la spada intarsiata di famiglia che mi regalò mio nonno ma come potete immaginare come arma è molto più bella la mia parlantina veloce la mia fede incrollabile e via dicendo armatura uguale lo scudo di mio nonno dato datomi in punto di morte quando invece l'armatura potrebbe essere la mia la mia incrollabile velocità dello scappare e via dicendo quindi può essere molto astratta dopodiché due cose che desiderate due cose che non volete quindi non so ciò che desidero estirpare la piaga oppure ciò che desidero non estirpare la piaga perché così posso continuare a uccidere non morti ciò che non voglio che la piaga finisca oppure che la piaga finisca o qualcosa di più specifico che il mio compagno Marco detto il piccolo torni a casa da sua moglie e via dicendo dopodiché ci sono i traumi sono le ferite che vi andate a prendere la terza ferita siete morti molto molto semplice dopodiché l'azzardo adesso vi spiego che cos'è adesso qua è il posto dove si si dipinge il proprio personaggio questa è una scheda provvisoria eh ragazzi ragazzi non è quella definitiva la stiamo facendo illustrare quella definitiva sistema di gioco dopo vi spiegherò il ruolo dell'Udi Magister partiamo dal giocatore si gioca a turno ovvero all'inizio della sessione si parte in senso orario o anti-orario il giocatore ha il suo segnalino adesso ho preso una pinzetta questo è il suo segnalino giocatore se lo mette davanti a sé all'inizio della sessione il Master il scusatemi l'Udi Magister dice al giocatore dimmi che cosa provi con due sensi voi potete capire vedo un'incredibile armata di non morti e sento le urla del popolo è un conto ma se uno dice sento in bocca il gusto dolce di una torta e però l'olfatto mi fa sentire odore di putrefazione così si inizia la scena in base a queste due informazioni il Master setta la scena si inizia a ruolare quindi il Master vi dirà che cosa c'è che cosa avete visto del perché magari siete all'interno di un forno e vi siete buttati in mezzo a delle torte per sfuggire ai non morti non morti sono intorno l'odore delle torte vi sta coprendo vedete i non morti che sono intorno a voi e via dicendo il giocatore inizia a ruolare con i suoi compagni ovviamente è un gioco di ruolo quindi si ruola e per sfuggire magari a questi non morti inizia a dire Master io sono Marchino detto il piccolo sono gigantesco quindi io voglio invocare il mio nome voglio invocare la mia descrizione e la mia armatura che sono i miei possenti bicipiti un altro giocatore dice aspetta io voglio invocare per lui il motto della compagnia quindi si ruola quindi il giocatore si alzere e fa io Marchino detto il piccolo mentre con il mio bicipite prendo per un braccio prendo la testa di un mondo morto e la faccio e la faccio esplodere con la mia enorme possenza vi distrugge a tutti e in quello gli altri giocatori che urlano il motto della compagnia uccidere duro sempre e lui di Magistrice è perfetto quindi prendi un dado per ogni diciamo quadratino che hai utilizzato quindi in questo caso qua il nome descrizione e armatura in più un dado perché Pedro gli ha dato il motto della compagnia quindi tirerà quattro dadi vi ricordate che sotto c'era l'azzardo e lo di Magistra è qua a Calalasso e gli dice zi guarda vuoi usare il dado azzardo il dado azzardo che cos'è è un d6 aggiuntivo di un colore diverso che hanno i che ha il giocatore che deve tirare ci sono due modalità di gioco in piaga quella normale dove con 5 o 6 si è successo quella apocalittica dove soli 6 hanno successo io tiro tutti i dadi che ho e vedo se ho fatto 5 o 6 oppure 6 dipende che modalità sto giocando mi basta un successo per superare la prova ovviamente tutti i successi aggiuntivi che ho li metto in una riserva comune come dadi non come risultato che possono utilizzare gli altri giocatori dopo il mio turno per fare le loro pull di dadi in tutto ciò il giocatore come potete immaginare resta con non avrà più un motto non avrà più nome descrizione e armatura avrà motto della compagnia e arma quando tira i dadi se col dado azzardo ha fatto 4 o 5 o 6 quindi 5 o 6 è successo solo 6 ma ha fatto 4 o 5 o 6 deve tirare sulla tabella degli azzardi che guardate un po' è fondamentalmente morte e distruzione che può andare dal perdete la vostra arma a venite morsi e questo scatena tutta una serie di disastri vari ed eventuali una volta finito il turno prende il suo token diciamo primo giocatore lo passa alla sua destra quindi e si continua così quando si finisce il giro e si torna all'Udi Magister e l'Udi Magister dice ragazzi volete giocare volete continuare volete andare avanti in base a quello che si dice si va avanti oppure no se si muore cosa fighissima ovviamente ci sono le meccaniche per recuperare i propri i propri tiri e via dicendo cioè non è non è che dopo non si gioca più perché non si ha più nulla da tirare si ruola sempre premetto se c'è un giocatore che farà fisicamente il tiro alla fine si sta facendo vedere solo piaga Ruppetto adesso non è che gli altri guardano passivi non fanno nulla no si ruola si possono dare dei tiri si danno dei suggerimenti diciamo che il tiro è risolutivo cosa c'è mamma a caldo era sudata mamma e se invece si quindi c'è si ruola molto perché una delle cose che anche io mi sono detto all'inizio è detto ma cosa fa un giocatore nel mentre in realtà c'è moltissima interazione una cosa bella è se si muore se si muore si diventa un nome tutelare e si gioca come spirito che dà i propri tiri in aiuto agli altri giocatori quindi magari può andare in avanza scoperta a vedere cosa c'è in mezzo alle file nemiche può dare i propri tiri sbiglia da spirito nell'orecchio e la sessione successiva si fa un nuovo PG una volta finita la sessione per farvi capire un consiglio che io do per giocare Piaga è un pochettino lo stesso consiglio che do a chi gioca a The Bridge ovvero ogni sessione fate un'avventurina se la sessione va avanti più a lungo dividetela al massimo in due avventure perché la cosa bella è che a fine della sessione appunto c'è si ritorna all'accampamento o si ritorna dove vuole si parte per un'altra per un'altra missione quando si parte per un'altra missione il Ludimagister cambia quindi il personaggio del Ludimagister magari sarà ancora in gioco ma Ludimagister quindi non sarò più io magari sarà Marco poi è Pedro quindi è fatto apposta per far sì che si giochi il Master a rotazione per fare anche più rendere confidenti con il ruolo del Master ai vari giocatori ed è molto molto semplice questo perché quando voi iniziate una sessione create assieme la sessione come vedete qua Ludimagister mettete il nome diffusione della piaga scegliete la diffusione non quella che vi ho detto prima se c'era solo un caso isolato se ci sono più focolai se invece c'è morte e distruzione e marciume in giro per il mondo il Papa si crea assieme al Papa ovviamente si può tirare tutto cosa che consiglio molto molto oppure si può fare il Papa se una persona ha bene in mente una tipologia di Papa assolutamente si può scegliere il Papa che si vuole dimensione madonna mio ottone che odore che hai fatto vergognati dimensione dell'ordine quindi c'è quanto è grande l'ordine della morte sono poche pochi soldati poche decine centinaia migliaia di soldati e poi la missione dopodiché come potete vedere c'è soldato 1 soldato 2 soldato 4 soldato 3 e via dicendo cioè è secondario quindi in base a quello si può fare molto vi voglio far vedere come è fatta una missione le avventurette troverete 20 avventure all'interno del manuale vi faccio vedere come sono fatte queste avventure allora piaga apri percorso file et voilà vediamo revisione così vi faccio vedere anche come sono i nostri gli scenari vi faccio vedere uno scenario di piaga eccoci qua allora gli scenari innanzitutto questo è importante in questa azione manuale troverete alcuni scenari scritti dalla creme del game design italiano ma porca miseria le lunghezze sono diverse ma la struttura è sempre la medesima titolo autore dello scenario informazioni di base sulla diffusione della piaga le dimensioni dell'ordine e la missione un antefatto che crea in poche parole un contesto narrativo 6 luoghi simbolici dove ambientare i turni di gioco 6 personaggi secondari che potrebbero incontrare i soldati 6 tradicerie e superstizioni che serpeggiano tra la gente basta prendiamone voglio prendere una a caso senza guardarle questa qua la prossima che c'è la chiesa dei diavoli di leonardo luci informazione di base diffusione a goccia quindi vuol dire che c'è un caso isolato dimensione dell'ordine gruppo d'elite formato da 5 specialisti molto piccolo missione papa innocenzo quinto ha mandato in un picco gruppo d'elite a indagare circa una misteriosa chiesa soprannominata la chiesa dei diavoli nascosta nella città di Arezzo italianità over 9000 antefatto la città di Arezzo nasconde un segreto tutti gli arettini altolocati conoscono qualcosa ma nessuno vuole parlarne a quanto pare il vescovo buoso degli ubertini ha nascosto qualcosa o qualcuno nella misteriosa cripta soprannominata la chiesa dei diavoli luoghi quindi i luoghi dove si può può avere luogo questa avventura il corso strada in salita che conduce la cattedrale fondo sconnesso costituito da visci di pietre ai lati botteghe degli artigiani maldisposti anche a proferire anche una singola parola la cattedrale di santi pietre donato maestosa struttura gotica in are in aria all'interno ci sono tre navate divise da grandi arcate struttura silente e scarsamente illuminata si è svegliato? cosa mi fissi? piazza grande piazza centrale di arezzo forma trapoestedale e inclinata per far defluire meglio l'acqua cento nevralgico di eventi fiere e tornei e all'occasione gogna pubblica le rovine al colle del pionta le rovine sono l'antica cattedrale della città depredata e divenuta la casa di alcune bande di malviventi aretini per pochi denari e qualche favore è possibile ottenere di tutto piazza di guido d'arezzo situata poco dentro le mura al centro troneggia la statua del monaco inventore della notazione musicale sporca e ricoperta di erbacce la piazza sembra essere controllata da sgheri armati 6 la chiesa dei diavoli nascosta nei pressi della piazza di guido d'arezzo edificio sotterraneo una cripta una prigione con un affresco gigante su una parete una coppia della cacciata dei diavoli d'arezzo realizzata da giotto quindi il master il ludimagister ha già questi sei luoghi in cui ambientare le varie scene secondari personaggi secondari che possono conoscere Buoso degli Ubertini tutti i nomi storici veri Ippolita degli Aizzi Onofrio Camagliani Pier Sacconi e Tarlati Federico Bobini Margherita da Cortona e via dicendo dicerie e superstizioni Buoso degli Ubertini nasconde un mostro da qualche parte il collo del pionte terra maledetto un manipolo di tagliagole sembra essere al soldo della chiesa i nobili sostengono che tra i forestieri ci sono dei nemici di Arezzo un artigiano a retina ha creato un oggetto meraviglioso una misteriosa filastrocca sembra essere l'unica chiave in grado di aprire la chiesa dei diavoli come potete vedere ci sono tutto di sei perché si tira quei di sei qua non c'è scritto che cosa c'è nella chiesa dei diavoli ma probabilmente sarà un sacristano che è stato morso o una devota che è stata morsa o una devota che si è trasformata che è risuscitata quindi in realtà il Buoso degli Ubertini pensa che sia grazie mille chi era per per la sub Buoso degli Ubertini pensa che sia una santa che è risuscitata non si immagina invece che sia una creatura demoniaca schifosa pronta a sbranare qualsiasi essere vivente quindi questa qua è la parte che permette al master di giostrarsela come vuole al meglio è tutto vediamo se riesco a farmi a bloccarmi con questo bracciale con i capelli qua dietro troppo ce l'ho fatta quindi questa qua è una cosa che dipende dipende da loro è estremamente semplice è molto 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 semplice questa cosa qua ed è la parte più divertente perché ci si mette nulla o torna e smettila è la parte più divertente che non ci vuole nulla a creare vi rifaccio vedere quello che vi dicevo la scheda no? eccola qua quindi qua nelle note potete segnarvi voi qualcosa e potete crearla sul momento il papo lo create voi scegliete voi la missione se la volete prendere poi la scegliete con i giocatori e poi potete scegliere il tema ci sono tre diversi tipi di temi c'è il tema grottesco sinistro e drammatico scegliete il tema che vi piace di più e lo giocate ovviamente a me personalmente piace molto il grottesco mi è piaciuto molto anche il sinistro il drammatico è molto molto pesante molto intenso conosco molte persone che lo giocano solo così io personalmente preferisco il grottesco per gusti prettamente personali perché mi piace mi diverte di più preferisco morire che farmi una risata che morire e piangere di morte e disperazione oltre a la parte di piaga di aspettate vi faccio vedere dove è il sito ecco qua di Helios non quella che mi ha visto adesso la parte autorale c'è tutta la parte grafica la parte grafica di piaga è molto importante importante quasi la parte autorale perché è molto catchy ed è è proprio figa banalmente cioè non avrai alte parole continuo a leggere ma piaga 1348 non è solo un manuale incredibile per il suo regolamento il comparto artistico non è assolutamente da meno e vi utirà a immergervi nella giusta atmosfera ce la fai? e chi dobbiamo ringraziare per tutto ciò Giovanni Nava direttore artistico di piaga 1348 e di Slice of Life ma ne parleremo meglio in un'altra occasione che da grande appassionato di GDR e di arti visive ha dato al gioco una personalità unica e qua ci ha ci ha ci ha scritto Gio un paio di frasi un volume come piaga necessita di un potente e distintivo impatto estetico per questo motivo ho esplorato direzioni che andassero oltre i classici illustratori old school l'idea è quella di far collimare il feeling delle incisioni medievali con un twist di estetica contemporanea metteremo dunque in relazione tatuatori incisori e illustratori tabule silvatica mimir sgorbio che partendo da un accurato studio delle iconografie antiche aggiungeranno ciascuno con il proprio stile simboli ed elementi che renderanno piaga 1348 un volume esteticamente unico a queste immagini verrà costato un comparto tipografico di impaginazione e cromie pensato per far dialogare brutalmente antico e moderno così da dare all'ordine della morte un fascino visivo senza tempo questo è un pochettino no non è un pochettino questa è la mood board che ci è stata proposta da Giovanni in fase quando gli abbiamo detto Gio facci vedere come ti immagini questo gioco ci ha mandato questa mood board ciao Ottone ciao amore mio come ti immagini questo gioco e lui ci ha mostrato questa cosa qua siamo impazziti tanto che considerate noi abbiamo contattato tantissimi tatuatori e tra presente ci sono due tatuatori che stanno lavorando a a piaga degli incisori dei incisori anche di capilettera c'è delle cose folli e ragazzi sta venendo fuori una bella bombetta cioè è proprio bello da sfogliare sono sincero la copertina è fighissima il logo il logo ad esempio di Giovanni Nava per me è bellissimo il logo di piaga c'è proprio proprio bello eravamo felicissimi quando facevamo le riunioni pensando i brainstorming di come fare il logo come fare la copertina e la copertina per chi non l'avesse vista c'è il logo sopra ci sono tre membri dell'ordine della morte che proiettano l'ombra che va sul logo e sotto l'ombra si trasforma nella morte proprio bellissimo mi piace veramente un botto come copertina non so se Marchino l'ha messo oppure no adesso controllerò mi sa di no in questo mood mall preliminare vediamo un colpo d'occhio di come possono convivere elementi storici con influenze cromatiche tipografiche e design ultramoderne questi qua che vedete sono le prime schizzi si è però hai fatto bene Marco le prime schizzi di Sofia Buratti per i separatori di capitolo quindi ci saranno sette sei capitoli ha messo queste qua sono le bozze e gli schizzi iniziali che ci aveva mandato con Giovanni non Giovanni ha fatto da direttore artistico gli ha dato indietro dei brief su come andare a limare determinate cose o a sostituirle e vedete il proprio bellissimo così capite anche voi come lavoriamo ci arrivano proprio le bozze così poi le aveva fatte a mano in matita c'è una roba meravigliosa Sofia il lavoro che ha fatto e poi invece cosa ci sono sono iniziate ad arrivarci le bozze quindi da schizzi a bozze prima di passare alla parte digitale più seria ed è un qualcosa di meraviglioso se adesso la faccio vedere faccio vedere io la copertina e questi qua ragazze e ragazzi sono bozze non è l'immagine ovviamente definitiva ma nonostante questo come potete capire da perfettamente il mood no? la morte che balla con i sovrani con un arcangelo dall'alto che guarda il tutto o un angelo della morte che tiene il mondo in mano cioè con questo stile è incredibile mi fa impazzire a che punto siamo con Piaga il testo di Piaga 1348 è attualmente in fase di revisione ma ci stiamo già dedicando anche al progetto grafico dell'impaginazione stiamo lavorando in parallelo da una parte con tutto l'editing e questo qua va alla nostra santa nostra santa Marta che ci aiuta in tutto e per tutto lei grande patita di zombie cioè si sta facendo tutti quindi sta facendo adesso Piaga farà anche The Walking Dead grande esperta di non morti quindi c'è insomma per noi è eccezionale altrimenti la sentivo prima mi dicevo ma ti piace anche mi dicevo sì non vedo l'ora di giocarlo quindi anche quando l'editor che si fa due occhi così a vedere tutto quanto c'è ecco infatti eccola qua c'è la Marta Sam Crow è Marta che ci che ci lavora quindi è solo è solo che bene quando un editor si piglia si piglia bene di del lavoro che sta facendo e ti dà un sacco di di consigli per noi questo questo è molto contento ma con lei si vince facile basta dargli zombie ed è ed è molto ed è molto ed è molto felice e quindi stiamo lavorando su su questo piano qua no è una cosa molto molto utile perché da una parte stiamo finendo di stare il testo però essendo un impaginato molto particolare siamo anche già creato le gabbie grafiche dove andremo dopo a inserire il testo all'interno come sapete la Piaga è la peste nera che ha colpito l'Europa nel 1348 magari per noi che siamo italiani e europei è un qualcosa che conosciamo magari per per l'America è già un qualcosa di per il giocatore medio americano è già qualcosa di più complicato quindi alla fine ci sarà un saggio un saggio sul sul proprio storico sulla sulla peste sulla peste nera un po' di setting così almeno anche le persone potranno leggersi effettivamente e prendere spunto su come ambientare le loro le loro avventure contiamo di poter stringere che potrete stringere questo manuale tra le mani a Luca Comics & Games 2024 ma sarà possibile provarlo in anteprima presso i nostri tavoli demo a Play Modena dal 17 al 19 maggio 2024 aggiungo una piccola cosa sapendo che Marco si incazzerà ma magari al Play potete stringere tra le mani il Quick Death magari vediamo no Marco non si incazza non sta scrivendo nulla quindi non mi sto ovviamente non sta più vedendo la live però stiamo lavorando per farvi avere un Quick Death molto bello e infine c'è la quarta ricopertina che è molto semplice ma descrive appieno che cos'è Piaga 1348 nel 1348 in Europa si moriva due volte la prima volta a causa della peste nera la seconda decapitati dalla lama misericordiosa della compagnia d'arme chiamata Ordine della Morte per qualche ragione tu hai la spada della giustizia dalla parte del manico saprai usarla con saggezza quindi questo qua è la perfezione che ti spieghi tutto Godpash guarda ti informo che in realtà la prima volta che verrà fatto giocare Piaga sarà al Napoli Comic Con dove io porterò una sessione proprio di Piaga ufficiale quindi in realtà si proverà anche prima al Play ci saranno un botto di sessioni al Comic Con ci sarà sicuramente una sessione poi magari qualcun'altra se voglio far giocare altre persone sono lì abbastanza frio un cacchio perché ho tipo dodici panel e sei sessioni in quattro giorni quindi non è che sono proprio così free però sì cercherò di fare il più possibile in assoluto e ovviamente la faremo giocare su Discord ci sarà alla FabCon ieri ha aperto la Call for Master della FabCon e io porterò anche Piaga tra le varie sessioni quest'anno io alla FabCon farò giocare molto porterò o quattro o sei sessioni proprio tante tante e farò e farò giocare un botto so che non c'entra nulla ma porterò anche questo gioco qua che è un gioiello vero basta chiusa parentesi quindi GoPask sì cioè God stai tranquillo ci saranno molte altre occasioni di giocare di giocare Piaga prima dell'uscita allora chiudiamo il capitolo Piaga apriamo un secondo guarda vediamo scusatemi vediamo cosa ci dice la newsletter seguiamo la newsletter ecco qua Piaga abbiamo parlato Dune avventure nell'imperium ultimi giorni per Dune chi controlla i dadi controlla l'universo it's a game fino alla fine di marzo trovate i prodotti di Dune avventure nell'imperium il gioco dell'ufficio di Dune al 20% di sconto innanzitutto scusate ragazzi ragazzi grazie perché avete aderito in tantissimi quindi grazie mille grazie un po' di un grazie da editore a a consumatore grazie mille andate oltre i film entratevi nell'ampio universo di Dune di Frank Herbert con una serie imperdibile di manuali supplementi e accessori fatte in modo che sia la vostra casa a elevarsi e controllare Arrakis sotto l'occhio vicile dell'imperatore e il mese prossimo arriva un'altra svalangata di sconti perché voi siete speciali cosa significa questa cosa qua il 31 marzo finisce questa iniziativa di Dune dove facciamo appunto un 20% di sconto su tutta la linea di Dune e questo perché perché è uscito al fin di Dune a fine febbraio quindi per tutto un mese queste attività possono durare un mese e abbiamo fatto il 20% di sconto su tutta la linea di Dune questo ci ha portato un ottimo un ottimo svalangata devastante di vendita di Dune ad aprile tutti quanti stiamo attendendo la serie Amazon di Fallout quindi ve lo posso dire tranquillamente dal primo aprile ci sarà lo sconto del 20% su tutti i prodotti di Fallout dunque è una gran cosa è una gran cosa sperando di non finirlo sono sincero perché poi abbiamo il Play poco dopo non abbiamo più tantissime copie quindi chietatevi compratelo se volete però lasciateci qualche copia per il Play per favore se no finisce sicuramente grazie Marco è sempre bello che noi facciamo le attività un mese prima delle fiere dove vendiamo vagonate e no invece noi facciamo sconti del 20% e chi vuole capire capisce se finisce non ci lamentiamo mica mica colpa nostra se c'è il 16 aprile sì ho capito ragazzi però voi sentite sapete dopo quando ci arrivano i preventivi delle ristampe quanto ce l'abbiamo Ottone sei un cane indegno quindi da aprile parte la mega promozione per fallout quindi sappiatelo che non ristampiamo bene a Play vengo a cercarti con minicarp Nico non vedo l'ora non vedo l'ora Magical non vedo veramente l'ora che top che figata sono molto molto contento magari c'è anche magari c'è anche c'è anche Olivia è al Play un giorno non lo so devo vedere mi sarebbe molto molto bello ciao Danger Bank ben arrivato quindi mi raccomando se siete intenzionati a comprare fallout ovviamente compratelo adesso che lo pagate prezzo pieno invece che dopo che c'è lo scontro del 20% pagate prezzo pieno adesso scherzi a parte aspettate un secondo dal primo aprile parte la mega la mega iniziativa che durerà un mese in occasione appunto di Amazon Prime e magari ci saranno anche delle altre sorprese a tal proposito mi riaggancio ah no progetto Camero ne parliamo dopo mi riaggancio al fatto che ieri siamo andati live con il secondo episodio della nostra avventura di Mouse Reader per Mouse Reader sto facendo giocare una una campagna che ho scritto tra virgolette perché ho lanciato ho lanciato io che è veramente molto 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 divertente o almeno mi sta divertendo veramente tantissimo e sta andando molto molto bene cioè la sto facendo poi giocare non alla The Gobbies per la The Gobbies intendo che le le fiere scusami le fiere le le regole sono un optional ruolo soprattutto e via dicendo no Marchino mi ha detto Nico ci sta far giocare far vedere i nostri giochi è la cosa migliore però devi giocarli come se di giocarsi con i tuoi amici cioè far vedere le regole fatte bene una sessione privata tra virgolette quindi abbiamo deciso di giocare assieme ai nostri amici letteralmente io sto giocando questa campagna con il mio gruppo GDR e anche con Erika la nostra la nostra collega Erika la nostra grafica la grafica di Need Games perché abbiamo deciso di fare questo format dove giocheremo con amici di Need Games con membri di Need Games con parte dello staff delle fiere di Need Games con membri di associazioni quindi per cercare di rendere la giocata non con ospiti importanti dove comunque c'è sempre un po' di tensione bisogna fare show ma no far vedere proprio come si giocherebbe in casa in totale tranquillità ridendo scherzando sbagliando delle regole è capitato che io mi dimentichassi una regola e o un giocatore o addirittura in chat mi ha detto no Nico guarda che il tiro salvezza devi farlo sul ieri successo ieri ad esempio sulla sulla statistica già abbassata a cavolo è vero cioè bellissimo e sta funzionando bene cioè è proprio proprio divertente potete trovare se non l'avete visto perché non so se voi lo sapete noi abbiamo un un canale youtube che comunque ha 283 video cioè un botto di video con un botto di giocate quindi venite iscrivetevi vi giro il link toh ciapa ecco qua vi iscrivete cliccate sulla campanella così ogni volta che carichiamo un video vi compare l'annuncio e se vi perdete le nostre live noi le ricarichiamo tutte quante qua come potete vedere c'è i ratti di campo di grano 1 su 4 e poi i ratti di campo di grano 2 su 4 che sono la sessione giocata all'alto ieri ciao plebo sessione giocata l'anno scorsa settimana fa e la sessione giocata ieri sono sessioncine da parenti potete vedere 1 ora e 50 e questo dura quest'altro è 1 ora e 55 le facciamo dalle 6 e mezza alle 8 e mezza perché vogliamo tenervi compagnia se siete in macchina che state tornando dal lavoro se state cucinando a casa e quindi la sera siete liberi non siete obbligati a vedere noi che giochiamo di ruolo premetto in queste campagne scrivo spiego bene le regole quindi se volete giocare mouse dritter non avete tempo per studiarvelo ve lo buttate in sottofondo e io spiego sempre le regole nel dettaglio ieri stava per morire malissimo un personaggio mi sono levato le mani tipo ponzo pilato ho fatto scegliere a loro chi morire alla fine erika si è deciso di prendersi un danno devastante in faccia ma non è morta vi sembrerà proprio di vedere come si gioca con i propri party a casa perché ripeto loro sono il mio party cioè stasera io alle nove e mezza ho sessione con loro ed è una mia sessione privata quindi è bellissima questa cosa qua quindi ricordatevi seguiteli tutti i mercoledì durerà ancora altre due sessioni il 12 aprile inizierà la sessione nuova sarà una sessione bella divertente particolare nuova mettiamola così guarda qua mi dice Marchino guardiamo in diretta qua dimmi che è edge runner today oh che bello che bello ah con Luke Luke sta diventando sempre il più suo padre comunque allora today Mike Mike Maximum Mike Mike Ponsmith l'autore di Cyberpunk received the e Gary Gygax lifetime achievement award at Garycon 2024 we just wanted to take this time to humbly thank Luke Gygax and everyone else for this was completely unexpected bello 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 emozionante per chi non lo sapesse anche Luke Gygax è il figlio di Gary Gygax che organizza la Garycon la Garycon è una è una fiera molto importante di GDR ovviamente focalizzata su D&D ma vi dirò di più focalizzata su Advanced e su Backme una fiera dove io vorrei tantissimo andarci non sono mai stato al Garycon e c'è questo premio viene dato appunto che viene dato ai grandissimi esponenti del GDR è bellissimo vedere Mike Ponsmith con un riconoscimento del genere specialmente perché anche l'inventore di Cyberpunk io e Marco lo conosciamo lo conosciamo bene ed è proprio bello è proprio bello grazie Marco per per questo per questo link sapete che è un sadico pazzesco che gioca a Cyberpunk che ammazza sempre tutti quanti ride come un pazzo c'è maledetto però vabbè tralasciamo tralasciamo questa cosa qua chissà magari in futuro vedremo anche Cyber nella nostra campagna la campagna dopo Mouse Reader sarà una campagna speciale allora visto che è uscito Road to Heaven e volevo Marco sinceramente studiare un attimino meglio e e e e parlarne perché non l'ho non l'ho studiato bene e anche perché vorrei sentire David per chiedere di quanto potrebbe costare fare un GDR illustrato da cioè una copertina illustrata da Paul Bonner per un per un GDR nostro però mi sa che ci arriva una scavasagnata devastante però vediamo non si sa mai allora detto ciò abbiamo parlato di non lo so che non c'entra nulla però perché è disegnato tutto da da Paul Bonner è Road to Heaven Marco no Road to Heaven Kickstarter no è Kickstarter o GameFound Road to Heaven Simone ah Marco sono un imbecille scusami hai ragione scusa sono un coglione stavo pensando al nuovo gioco non all'avventura di di Zombicide scusami scusami Marco scusami sì sì fatti scusa scusa ho sbagliato ho sbagliato sono vecchio anch'io allora vediamo Road to Heaven Forbidden Planet Simone eccolo qua allora sì lo so Marco lo so lo so Road to Heaven avventura molto figa tra parentesi parlo con le parole di Marchino perché c'è io Marchino mi fido ciecamente come Marchino stranamente di GDR si fida di me mi ha detto che è veramente molto bella non ci ho ancora messo le mani non ho ancora avuto modo di vederla quindi ecco perché non mi ricorda in mente però Marchino mi ha detto è veramente veramente bella campagnazza di Zombicide Chronicles Zombicide Chronicles è sicuramente un gioco che porteremo al Need Play uno perché è sfogliala devo andarla a prenderla ma perché mi mandate a puttane le mie scalette io faccio una scaletta voglio fare una cosa e va tutto invece in bacche dopo allora Zombicide Chronicles Road to Heaven eccolo qua e qua Olivia ma Mike sta giocando con Ottone come sempre sono ancora in modalità casereccia poi da settimana prossima torno fisso a Milan vediamo se me la sta aprendo non me la sta aprendo Marco ok me l'ha aperta opp eccola qua guardiamo il l'indice che è la cosa migliore per vedere che cosa c'è dentro allora non sta non sta a morire a far cavalcare Ottone che dopo si arrabbia date di là tutte e due spaccate le badre allora New Survivor Archetypes Back to Hell perfetto allora Play the Campaign Campagne Archetypes Campagne Event ok dopodiché le missioni che compongono tutta la campagna sono un sacco aspettate un secondo ragazzi che ma li mando via perché non è possibile amore no non voglio io non voglio papà vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua scusate ma avevo mia figlia in in frenzy oh grazie nocturna grazie grazie mille per per il ride un botto di missioni ci sono scusatemi sono 15 10 missioni più il l'epilogo quindi alla grandissima another Michael Guide to Zombies bello prissimo content get it here perfetto comunque un sacco di una bella campagnetta sa qua proprio magari si perché no portiamo una missione durante il lead play questo perché uno è un gioco che abbiamo scritto noi e due vogliamo farvi capire quanto è divertente è molto divertente tre potete giocare a me quindi c'è top non vedo non vedo assente errori sfogliamola op ah bello bellissimo mi piace quando si fa vedere la campagna gli nodi della campagna è una cosa che ho sempre amato tantissimo ed è veramente super super utile ah ma anche con la mega ma pazza minchia ma è fighissima è conspiracy theorist molto figo molto molto figo andiamo a caso bello sono molto mi ha 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 acchiappato con le mappe e tutto top Godo. Bene, grazie Marco per questa nota. E adesso, abbiamo parlato di un sacco, vorrei farvi vedere l'ultima cosa perché mi stanno arrivando un sbordata e mezza di messaggi e tantissime iscrizioni invece ci stanno arrivando. Ovvero, progetto Camelot. Trovate tutto nella newsletter, ovviamente. Ieri abbiamo fatto questo annuncio qua e siamo a cento, forse più di cento iscrizioni, non ci aspettavamo una cosa del genere. Che cos'è il progetto Camelot? Allora, fondamentalmente, vogliamo essere banalmente, ci sono tantissime realtà in Italia. associazioni, negozi, locali, content creator, che parlano e divulgono di GDR. Diciamoci la verità, trovarli a volte è un burdel. Questo perché io magari, io Nicola, parlo di io Nicola, giocatore di ruolo, eh, ok? Giocatore di ruolo. Con il mio, diciamo, lavorando per Need Games, avendo fatto un sacco di promozioni di GDR, conosco tante persone, ho tanti vecchi scoreggioni come me, che giocano in GDR da un botto di anni, ci si conosce tutti quanti dopo, non so neanche io, quante migliaia di fiere ed eventi abbiamo fatto, e quindi, non so, se vado a Roma, so che alzo il telefono, chiamo Giuliano e dico, oh, Giù, senti, c'è qualche evento stasera da te, o chiamo la Laura. Se sono a Fabriano, vabbè, se sono Fabriano, Patria. Se sono a Salso Maggiore, so chi chiamare, se sono a Udino, ho fatto Udino un esempio perfetto. Sono a Udino e so che c'è una piccola associazioncine, ma non so quando fa gli eventi, o se magari è chiusa banalmente per tot tempo, e via dicendo, ma vado in un posto, vado a Ferrara, ma dico una cosa dove non conosco associazioni ferraresi. Vado a Ferrara, devo andare a Ferrara un weekend e magari mi piacerebbe farmi una sessione. Non conosco un'associazione di Ferrara, non so chi c'è, non so se ci sono eventi, cosa faccio di solito? Lo faccio anche a Milano, eh? Vado su Eventbrite e scrivo GDR Milano, GDR vicino a me, e via dicendo, mi vengono fuori tutti gli eventi. Noi ormai abbiamo una... passatemi il termine, un certo nome e un certo peso nel GDR italiano, eh? Non che chi si loda si broda, però sapete quanto ci teniamo al GDR, quanto amiamo il GDR e quanto cerchiamo di fare promozione, anche se siamo editori, quindi noi viviamo di GDR, non dobbiamo vendere di GDR, però ci vedete come siamo anche in fiera, ci vedete come quanto ci teniamo al GDR, è una nostra passione prima di essere un nostro lavoro. Per molte persone, molto più bravi di noi a promuovere il GDR, magari sono molto brave sul territorio, sui propri associati e via dicendo, ma magari non con persone che vengono da fuori, o magari fanno eventi online e le persone non lo sanno e via dicendo. Quindi che cosa vuole essere Camelot? Camelot vuole essere una tavola rotonda, il logo è ruoliamo duro insieme, dove promuovere il GDR tutti quanti assieme, sia che siate appunto delle associazioni, sia che siate dei content creator. Ma content creator, ragazzi, non pensate a numeroni assurdi, è anche una persona che da domani dice, io da domani inizio a fare il riassunto delle regole del manuale e li spiego su YouTube. Va benissimo, avete un podcast, avete un vostro canale Twitch dove fate giocare i giochi, tutto quanto va bene. Fondamentalmente voi avrete una vetrina sul nostro apposita sul nostro sito, sulla zona dedicata a Camelot, dove potete iscrivere la vostra associazione, sarà presente sulla mappa, ma soprattutto ci sarà tutta la sezione eventi. Quindi io andrò a dividere gli eventi con i menu a tendina nelle regioni, per settimane, che cosa succederà, e me dicendo, e nell'evento io avrò la descrizione di chi organizza l'evento, quindi la descrizione, non so, dell'associazione che crea l'evento, dove sarà, se c'è un costo, la modalità per iscriversi, quindi cliccherò su iscriversi e mi manderà sulla pagina dell'associazione o di Eventbrite, anche dove è stato caricato l'evento, e ci sarà la possibilità anche di metterselo in calendario. Quindi fondamentalmente noi faremo di tutto per dare visibilità e promuovere questi eventi. Quindi in Need News guarderemo questi eventi assieme, poi ci saranno eventi che faremo anche noi, quindi gli eventi che faremo noi di Need Games semplicemente avranno il loghino di Need Games sotto, per vedere che quelli sono i luoghi, i loghi ufficiali. Una domanda, ci sono state fatte parecchie domande. Leggiamo prima un secondo progetto Camelot, poi ne parliamo assieme. Zero to hero, dopo parliamo anche di questo. Era da un po' di tempo che desideravamo valorizzare tutti coloro che divulgano il gioco di ruolo e che ci aiutano nella nostra avventura. Per un motivo o per l'altro, però, nonostante le intenzioni ci fossero, non riuscivamo a trovare lo spazio giusto e non riuscivamo a gestire numerose richieste di supporto che ci arrivano ogni settimana. Questo perché, vi spieghiamo nel dettaglio come è nato, tantissime associazioni ci taggano nelle loro storie, tantissime associazioni ci dicono ma hanno riuscito a spingerci magari un evento e altre cose? A noi piacerebbe tanto, però capite che noi siamo comunque un'azienda, quindi se dobbiamo spingere un evento piuttosto che un altro, magari non riusciamo a fare dei nostri post, oppure banalmente riusciamo a spingere un evento e l'altro evento ci dicono ma scusate perché avete spinto questo e non quell'altro? Era abbastanza complesso. Quindi abbiamo iniziato un po' di tempo fa dicendo senti, ricondividiamo tutto, vediamo come va, creando ovviamente confusione. Quando all'inizio di quest'anno abbiamo iniziato a pensare in maniera più programmatica per stilare un calendario delle nostre attività, costruendo contenitori come la needs letter, valutando i vari canali e ripensando i vari show in base alle esigenze di comunicazione, ci siamo resi conto di quanto il mondo del GDR sia frammentato e di quanto talento e passione fluisca ogni giorno nel territorio senza essere noto al grande pubblico. Ed è un peccato. È veramente un peccato che questo accada. Ci sono eccellenze e non usiamo a caso questa parola. Da qualche tempo abbiamo iniziato a conoscere e lavorare nella scena internazionale e siamo giunti alla conclusione che in Italia non abbiamo niente da avvidare a nessuno. Credeteci. È un sacco di idee che abbiamo messo in atto e io nasco da un confronto con tante realtà amiche. La traduco in degobbissese. In Italia spacchiamo i culi. Letteralmente, ragazzi. Siamo bravissimi noi italiani con le attività legate al GDR. Ma tanto bravi, tanto fighi, ci mettiamo tantissimo cuore. Siamo pochi, compenso non so, al pubblico americano, ma le figate che facciamo sono devastanti. Podcast, actual play, video in un minuto, eventi di provocazione. Cioè, sono tutti di una qualità molto alta. Veramente l'alsticella si alza sempre di più. Siamo pochi ma buoni. Siamo pochi ma veramente bravi. E per pochi intendo giocatori di ruolo, eh. Cioè, in generale. E persone che si fanno il culo proprio per passione. Che è la cosa più importante del mondo. Perché non c'è, molto spesso non c'è remunerazione, no? In tutto ciò. Anch'io, io per anni, ho promosso il gioco di ruolo, il gioco di ruolo organizzato, fatto eventi. Per nulla. Ho iniziato a guadagnare nove mesi fa, circa. La scherza parte. Unche quando Need Games è ingranato. Ma anche Marchino all'inizio mi aiutava negli eventi a gratis. Marchino, ti ricordi? Free RPG Day. Cioè, non guadagnavamo nulla. Lo facevamo per passione. Quindi, perciò, ci siamo detti. Visto che abbiamo poco lavoro. E se ci prendessimo noi questa responsabilità? Se oltre ad organizzare al meglio le nostre attività, offrissimo una vetrina alle associazioni che organizzano eventi e serate, ai negozi, che sono il punto di riferimento in intere comunità locali, e ospitano giochi organizzati e campagne, ai creator che riescono a trovare parole migliori delle nostre, per raccontare questa passione. Nasce, quindi, il progetto Camelot, un non troppo velato riferimento ai miti arturiani e al tema portante della condivisione, con la sua tavola rotonda e l'amore per il territorio. Si tratta, certamente, di un'idea, certamente ambiziosa e complessa, dopo ripetizione dobbiamo toglierla, che abbiamo deciso di suddividere in vari passaggi. Fase 0, prescrizione, è quella che potete fare adesso, ok? Prima fase, calendario eventi, data da definirsi. Lasciateci solo un secondo, ragazzi, c'è il play veramente a poco, magari anche prima, però non vi diamo adesso delle tempistiche, intanto facciamo la prescrizione. Chi si prescrive riceverà una mail con tutta l'informazione. Calendario eventi di tre player, quindi delle associazioni, quindi tutti quanti le associazioni che creano gli eventi nelle loro sedi associative, nei locali, nei negozi e via dicendo. I negozianti, nei negozianti sono anche i locali, no? I game cafe, diciamoli così, quindi che possono sponsorizzare i loro eventi che fanno all'interno dei loro negozi e poi i creator, quindi qualsiasi content creator che faccia Twitch, che faccia YouTube, che faccia Podcast, qualsiasi cosa. La seconda fase è... da valutare, ne parlavamo oggi, ma una fase alla volta. Fase 0, pre-iscrizione. Usate il modulo sottostante per prescrivervi sin da ora, soprattutto se non volete perdervi il lancio delle varie fasi del progetto Camelot o avete delle domande per noi, non troppo specifiche al momento, ovviamente, perché una cosa è una cosa alla volta, per procedere compilate i campi ricordandovi di inserire il nome della vostra realtà e un indirizzo email valido prima di cliccare sull'apposito pulsante per confermare la prescrizione. Non abbiamo ancora definito una tempistica per procedere con la prima fase e le successive, ma lo saprete prima di tutti. Qua vedete, potete scrivere associazione, negozio, nome, ottone, no, associazione, negozio, locale, content creator, altro. Nome da referente, località, provincia, email, link principale, che cosa fate? Due righe di iscrizione, giusto per capire chi siete. Autorizzo al trattamento dati per finitare informazioni sul progetto Camelot, dovete cliccarlo se volete essere ricontattati e avere altre informazioni, e via dicendo, prescrivetevi. Prima fase. Calendario eventi. Allora, sto spiegando tutto questo per evitare che dopo, dopo apriamo tutte le domande, venga fuori, e poi vi faccio la domanda, ma io che porto solo D&D, posso portare il mio evento? Io che invece sto scrivendo il mio gioco, posso promuovervi il mio gioco tramite voi? Qua c'è scritto tutto. La prima fase del progetto Camelot consiste nel chiamare la raccolta a chi lavora sul territorio e fornire un calendario eventi, un'utile vetrina per affiancare alle nostre attività i bellissimi progetti che vediamo ogni giorno e che condividiamo con piacere, nel limite del possibile, quello che dicevamo prima, sui nostri canali. Per cominciare daremo la priorità alle associazioni ludiche e simili, passando quindi a negozi e locale, luoghi di aggregazione e non soltanto di vendita, per poi coinvolgere i creator e i loro contenuti social, spesso un po' meno rivolti al territorio e più alla diffusione di massa delle informazioni. L'obiettivo della prima fase è fornire a tutti i giocatori di ruolo in Italia, dai più scafati ai semplici curiosi, che desiderano provare a ruolare duro sempre per la prima volta, un'utile panoramica sui nostri articoli e annunci, per poi puntare l'attenzione sugli eventi del territorio di carattere più nazionale. Ecco un esempio concreto del calendario eventi, nessuno uno critico e nessuna polenta sono stati maltrattati a prezessioni in questo esempio. Con uno critico e polentologi abbiamo un rapporto molto stretto, perché collaborano con noi in tantissimi eventi, per farvi capire i master che ci sono al Modena Play, sono tutti i master di uno critico, tutta la multitaula in Navigavia sta scritta a polentologi, sono associazioni molto amiche, abbiamo collaborato tanto con loro in passato, sono associazioni meravigliose. Vedrete, sono così, ad esempio, Nerd Show, porca miseriaccia, Nerd Show e Need Game Show, sono eventi Need Games, quindi hanno il loghino Need Games vicino. All Shit Happened Again è un esempio di uno critico di Modena, quindi non c'è il loghino, GDRN Beer in Poletogio, Giltoplay, sarà una vetrina così con i vostri eventi. Come sarà fatto? All'interno voi potete cliccare sull'evento, verrà fuori, no? Uno critico, cos'è successo alla Confederazione? In che data? 15 marzo dalle 15 alle 20. Dove viene fatto? Il costo, perché magari alcune associazioni dicono, guarda, puoi venire a giocare con noi, però costa 2 euro, oggettivamente 5 ore di ruolata, 2 euro ci stanno tutte. Se iscrivi su Partecipa, ti manda sul sito dell'associazione, sull'eventbrite e via dicendo, dove ci si scrive, con Ricordamelo, me lo mette nel calendario. Descrizione, descrizione dell'evento, indicazioni su dove l'evento è e tutto quanto. Come potete vedere il concetto è, aspettate, c'è anche, scusatemi, il prototipo profilo, non ve l'ho fatto vedere. Cliccando ad esempio su, qua c'è uno critico, pensiamo che sia Polentology, logo di Polentology, chi siamo, quindi vi spiega Polentology chi è, l'associazione, dove siamo, quindi vi dice la loro sede associativa, dove si trovano, quando si riuniscono e via dicendo, e cosa facciamo, che cosa fanno, perché magari è un'associazione che fa due volte al mese gioco da tavolo, due volte al mese gioco di ruolo, fanno solo l'ARP e via dicendo. Quindi avete una vetrina vostra. Ma Nico, cosa succede? Come carico gli eventi? Ve li devo mandare? La foto la fate voi? Leggete, ok? Leggiamo. Come potete vedere il concetto è semplice, almeno il sistema sarà pronto potete costruire, costruire voi, voi, associazioni, content creator, negozi, locali, più nella prima metà, il vostro profilo, per poi inserire gli eventi mano a mano che li programmate. Potrete anche invitare gli utenti a iscriversi ai vostri eventi su una pagina esterna del vostro sito web, Eventbrite o altra piattaforma social, ok? Vi ricordate quello che vi ho detto prima con partecipa? È questa cosa qua. Prevediamo anche l'inserire la funzione ricordamelo, il bottone vicino, per permettere agli utenti interessati di inserire l'evento nel calendario personale. Quindi ve lo scrivete nell'evento, volete shareare ai vostri amici? È la cosa più veloce, ci avete sempre a portata di tablet, cellulare, computer, quello che volete. Abbiamo ipotizzato, questo è molto importante, ok? Quindi è quello che io dico adesso, bisogna collegare la testa alle spalle, quindi si toglie, non c'è, la testa da un'altra parte e si mette sulle spalle, ok? Abbiamo ipotizzato che il caricamento degli eventi possa avvenire autonomamente e la sua invisibilità sia immediata. Noi verificheremo soltanto che l'evento aderisca a una serie di parametri che definiremo nella fattispecie coerenza con i nostri titoli, decoro e veridicità, prendendoci il diritto di oscurare i post che non saranno conformi alle regole stabilite. Ci è stato chiesto, giustamente, se faremo delle linee guida, se ci sarà un manifesto o qualcosa, sì, ci sarà un va-de-vecum di che cosa fare. Questo perché dobbiamo capire anche noi bene che cosa fare alcune cose, perché l'esempio che ci è stato fatto, scusami, io nella mia associazione faccio un sacco di eventi, c'è l'evento dedicato a vampiri, c'è l'evento dedicato a a favola ultima, ma c'è anche l'evento dedicato a D&D. Allora, in questo caso qua, cosa posso fare? Posso pubblicizzare gli altri, non posso pubblicizzare questo, l'evento di D&D è un evento per neofiti, stiamo valutando anche noi, ovvio che se c'è la giornata che si chiama Top Play, è un evento che ha tutti i giochi di ruolo, si può fare tutto perché ci sono anche giochi nostri, il Top Play è un evento meraviglioso, se invece non so mi dite no, io faccio il torneo del mio gioco a casa mia, allora dobbiamo valutarlo, dobbiamo capirlo anche noi, totale trasparenza, ovvio che a noi piacerebbe che fosse un aggregante, però questo comporta per noi tanto lavoro, è un po' una vetrina, sia per voi che per noi, però dobbiamo ancora capirlo perché sinceramente siamo più della visione di fare promozioni GDR in generale, magari se sono quegli eventi fatti per giocare di ruolo per neofiti, cioè se fate una giornata dedicata a D&D quinta edizione che è fatta apposta per i neofiti, cioè può anche andarci bene, no, giustamente, dobbiamo solo capire che cosa che cosa fare banalmente, ma per quello che non abbiamo già fatto l'iscrizione eventi o altre cose, dateci solo il tempo un attimino di ragionarci bene assieme. Mangio, stiamo parlando del progetto Camelot, e poi? È ancora presto per parlarne, ma sicuramente il progetto Camelot non si ferma qua. Dopo aver valutato le adesioni alla prima fase, quanto e come la piattaforma verrà utilizzata, moduleremo lo sviluppo futuro per rendere quest'idea sempre meno ambiziosa e più concreta. Restate aggiornati per non perdervi le novità sul progetto Camelot. Ruoliamo duro insieme. Se andate su questo è tutto nel newsletter, qua se non sapete ne parlate più del dettaglio, qua spieghiamo su questo breve clip che è breve, su questo clip che cos'è il progetto Camelot. Questo è un pochettino il need news di oggi. Abbiamo ancora volendo una ventina di minuti, quindi possiamo parlare domande, possiate chiedermi informazioni sui nostri prodotti, domande su quello che abbiamo parlato oggi, molto volentieri, quindi su Piaga, su l'iniziativa di Dune di scontistica, l'iniziativa di Fallout, su Mouse Reader, sul progetto Camelot e vi dico, mi stanno arrivando molti messaggi e ho scritto ciao Nico, mi spieghi che cos'è il progetto Camelot? No, cioè nel senso ragazzi, abbiamo fatto una newsletter, c'è un video, c'è la spiegazione, c'è tutto quanto e si manda indietro, cioè vi rimanda queste cose qua, perché informazioni aggiuntive dobbiamo prima delinearle per bene al nostro interno, poi avrete stati primi a avere il manifesto, prescrivetevi e vi arriverà tutto quanto, non vi preoccupate, cioè è una cosa che facciamo per voi e per noi, vogliamo divulgare il GDR e vogliamo che sia uno strumento utile per il gioco di ruolo in Italia. Ci siamo fatti diciamo i portavoce di questa cosa qua, speriamo di riuscirci e se succederà, se sarà intasato di eventi sarà un happy problem, capiremo come risolverlo, speriamo di sì. Sto bene, re del deserto, grazie, grazie mille, spero che stia bene, che tu sia bene anche tu. Allora, aspettami, e allora, per il mio podcast devo capire cosa inserire, specialmente perché parlo di cinque anelli spesso e volentieri anche quando parliamo di altro, ma questo c'è nel senso, tu fai il tuo posto su podcast di GDR, i temi trattati nelle puntate sono questo, questo e questo, poi ovvio, cioè vedi tu se tenerlo generico dove ogni settimana lo metti parlando del tuo posto generico oppure se farlo specifico per quando hai delle puntate ad hoc, tanto sarai tu autonomo a caricarlo, quindi vedi tu che cosa fare, se fare un copy-in-colla o semplicemente ogni settimana lo metti e metti in podcast dedicato al GDR tema di oggi cinque anelli o via dicendo. Vediamo se ci sono altre domande, scusate, non vi ho scagazzato di pezzo con una domanda, quindi se avete domande fatemele a nastro mi fa solo che piacere. Oh, 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 oh. Non ci... che mi son perso. Andrebbe bene anche per eventi LARP, GDRLi, dipende per che eventi ZeroTweer ovviamente, cioè se siete un'associazione che fa eventi LARP e tutto quanto potete avere assolutamente il vostro il vostro il vostro profilo e poi se ci sono eventi LARP anche di giochi che riguardano noi tamben, tamben che mai assolutamente anche se noi siamo più un'azienda dedicata al GDR cartaceo non ai LARP. Io personalmente non sono molto esperto di LARP quindi non non ne posso parlare ho fatto due LARP in tutta in tutta la mia vita. Allora vediamo un secondo no non ti ho visto ma ci sono altre domande altre domande fatte. Allora manuale dello scorpione e dell'unicorno usciranno prima o poi o è già resta concentrata su Adventures of Rokugan? Allora no quello che ti posso dire è che comunque verrà viene tuttora supportata la linea di unicanello non ti so di unicanello scusami nella leggenda dei 5 anelli non so assolutamente darti delle delle date non le sappiamo neanche noi purtroppo quindi non non saprei dirtelo Matteo spero spero il prima possibile è un è un gioco che come sapete io amo moltissimo è stata la mia campagna lunga due anni fa quindi spero proprio spero proprio di sì. C'è una cosa che non ho capito Nico io sono di Milano se volessi venire ad acquistare manuali fisicamente a che indirizzo posso venire a Zarga non ci sono possibili non ci sono problemi il nostro indirizzo della nostra società si può venire previa però avvisateci perché molto spesso cioè noi siamo un'azienda che lavora qui non è che abbiamo un negozio fisico è in via Pietrasanta 12 a Milano ci sono scritti via mail ci scrivi ci dici quando vuoi passare puoi venire senza problemi puoi pagare con il post puoi pagare con incontanti puoi pagare con Paypal come vuoi non non ci sono problemi ovviamente non so perché ogni tanto non abbiamo sacchetti quindi se vuoi un sacchettazzo o qualcosa vuoi prendere tanta roba avvisaci prima e comunque puoi venire quando vuoi a prenderlo se un'associazione locale eccetera non inerente al GDR vuole mettere a disposizione uno spazio e collaborare per realizzare 20 GDR come funziona? allora in questo caso qua God è molto molto semplice che cosa puoi fare? puoi prima di fare il progetto il progetto sul come progetto Camelot fare un annuncio su ci sono un sacco di siti o anche banalmente anche in negozio o locale dove metti che hai degli spazi che vuoi dare al GDR puoi tra priorità usare magari le persone e le associazioni che vedi sul progetto Camelot su non so faccio ad esempio facciamo fin da che tu sia a Milano giusto così giusto per mettervi di ok quali sono le associazioni che fanno eventi su Milano le vedi le scrivi una mail e gli dice ciao ragazzi io ho questo negozio locale tutto quanto dove mi piacerebbe fare eventi GDR non sono esperto in GDR volete venire qua a fare un evento GDR vi do lo spazio gratis vi do lo spazio a una cipolla e via dicendo una volta che lo hai deciso allora fai il tuo il tuo evento dove luogo spazio cipalippa assieme all'associazione Bubi Bubi fa l'evento GDR e così puoi caricarlo dopo sullo spazio dedicato al progetto Camero ci porterete l'espansioncina di Passione della Spassiones Graffio sai che mi stai prendendo totalmente in contropiede ma intendi l'espansione quella con l'ambientazione col setting ok Marco sta dicendo per venire a comprare i negozi da noi fai l'ordine sul sito e poi ci chiami e lo ritiri tranquillamente da noi più che altro essendo temi variegati che vanno da bisogni particolari al tavolo all'utilità dello schermo del GL ovviamente non c'entra interviste d'autore cose così uso cose semplici ma no questo qua va benissimo queste promozioni GDR pura cioè passami il termine è come se fosse un sistema agnostico va benissimo così se poi se fai anche esempi di altri giochi c'è chi se ne frega questo qua proprio è divulgazione GDR nello stato più puro quindi non eventi ma proprio vi spiego che cosa serve lo schermo che cosa serve il tavolo la differenza tra il tavolo e il VTT mi sto invertendo quindi va benissimo un podcast del genere anzi poi finalmente anch'io ne scoprerò un sacco un sacco di più allora Piaga mi piace molto come prodotto ma voglio capire quando lo porterete su Discord e se si può provare lì gioco molto online col impegni dati dalla vita e mi piacerebbe provarlo l'unica fiera che posso raggiungere sarà il Play di quest'anno e lì voglio portare i manuali che portate guarda Fabio porteremo anche su Discord non so dirti quando magari ci saranno dei master che lo porteranno sicuramente prima di Lucca ne porteremo ci sarà anche un Needscore dedicato a Piaga lo porteremo sul Needplay quindi c'è un momento di provarlo ci saranno se poi hai un paio di ore sapete che le nostre demo al Play durano un'ora e mezza diciamo due ore comprensiva anche di spiegazione arriva al tavolo è alzata dal tavolo magari trovi un'ora e mezza per giocarlo e provi anche quello guarda Graffio ho capito quali sono le le espansioni che dici tu non so se è un'esclusiva Kickstarter o no sinceramente Mark e Company non ci hanno detto nulla però ci informiamo e ovviamente Passione è un gioco che va bene ci diverto un sacco quindi di sicuro faremo faremo qualcosa allora altra cosa Dragon Bane esce al Play ma per i poveri sfigati che ormai non possono andarci e subito dopo c'è da attendere no allora esce subito dopo tra parentesi probabilmente apriremo i preorden e preordini a fine diciamo ad aprile inoltrato quindi se la qui si ti arriva subito il PDF rientrati dal Play ci arrivano i pallet quindi considerateli in circa una settimana di tempo dopo circa quindi finisce il Play quindi dopo una settimana ci arrivano i pallet e altre cose e iniziano le spedizioni quindi abbastanza acceleramente diciamo nel giro di dieci giorni dopo il Play sia negozi che da noi lo potrai acquistare figurati Fabio è un piacere Sgama stiamo molto bene stiamo facendo il news abbiamo parlato di un sacco di cose di piaga abbiamo parlato delle iniziative di Dune delle iniziative di Fallout e adesso siamo concentrati sul progetto Camelot facendo un po' un po' di rispondere a un po' di domande come sempre adesso è la parte dove potete farci tutte le domande sui nostri prodotti sulle future uscite o qualsiasi genere di informazioni abbiate bisogno di ricevere da noi ve le diamo sia da me sia se non so qualcosa c'è Marchino in background che essendo diciamo in charge per tutta la produzione magari sa colmare qualche mia lacuna quindi se avete se avete domande fatemele se no per me siamo quanto siamo in live un'ora e tre quarti quindi ce va proprio alla grandissima alla grandissima oggi questa live mi piace come si è trovato in news ci arrivano altre domande allora dai gradi mi piace molto questo nuovo calendario comunque grazie Zergan gli orari sono perfetti anche per me che lavoro su turni ti metti in sottofondo e mi tiri in compagnia Zergan l'abbiamo fatto a dire la verità apposta sono infatti se ci seguite sapete che sono tre slot orari diversi lunedì dalle 15 alle 17 il mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 e il giovedì dalle 17 alle 19 siamo siamo molto molto contenti del riscontro poi magari non è detto che in futuro possano subire variazioni in base appunto al riscontro che c'è vediamo che l'orario ideale farlo sempre dalle 6.30 alle 8.30 o gli altri giorni farlo dalle 17 alle 19 magari lo spostiamo il manuale di Assassin's Creed sarà disponibile al Play? all'orella no non sarà disponibile perché non è disponibile neanche in americano dovrebbe uscire il manuale base a fine di a fine 2024 dopodiché noi lo lo lavoreremo subito sicuramente in tempi brevi uscirà il Quick Start non so ancora quando Marco magari se tu hai una data precisa basta guardare il production update scusate il non production update aperto ci sarà il Quick Start disponibile allora notizie sul cargo con il manuale di Warhammer stanno 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 arrivando veramente la prima in teoria prima settimana di aprile viene sdoganato il tutto dopodiché partono le spedizioni quindi siamo ce l'abbiamo fatta e ragazzi una cosa ecco vorrò fare un sicuramente appena ci arriva tutto faremo un news dedicato a quello perché voglio fare un attimo un focus su un prodotto che mi ha stupito particolarmente come sapete io non sono un un esperto del mondo di Warhammer di nessuna tipologia di Warhammer cioè né del fantasy roleplay né di di 40k quindi vratta in glory né di age of sigma quindi di soulbound non non ho mai giocato ai giochi di miniature non non ho mai neanche mai giocato ai giochi di role in passato sono sempre stato abbastanza ignorante e quando abbiamo iniziato a prendere questi giochi ovviamente ho iniziato a studiarmi e mi sono divertito molto ma un gioco che mi ha veramente un prodotto mi ha veramente stupito e ve lo farò vedere e lo giocheremo anche assieme è stato lo starter set di soulbound non non vi dico nulla ma i materiali la qualità della campagna dentro il il setting il regolamento mi hanno fatto volare veramente bellissimo quello è un prodotto cioè secondo me bisognerebbe esserci tantissimi starter set e giocare tantissimi quelli e cambiare di volta in volta è una cosa che che adoro che adoro vediamo cosa dice il QG scusami ragionina e finini vediamo Marco cosa dice lo ripropongo scusami Marco non ti ho letto sotto punti di forza per piaga e far capire che c'è no scusami e far capire che è qualcosa di diverso da recente momento mori c'è qualcosa di esoterico che caratterizza i cavalieri dell'ordine della morte e deve essere estensionati da chiesa allora sono due giochi totalmente diversi totalmente diversi innanzitutto il momento mori tu stai per morire sei un appestato muori male e via dicendo qua invece no qua tu sei un membro dell'ordine della morte a livello di lore non c'è un motivo per cui sei stato scelto dall'ordine della morte cioè lo scegli tu viene spiegato cioè perché fai parte dell'ordine della morte e lo devi spiegare ed è proprio cioè tu non hai poteri speciali non c'è magia non hai robe cioè tu sei una merdina sei solo molto bravo a combattere sei cazzuto ma infatti è c'è una mortalità altissima specialmente se si giochi in modalità apocalisse e in modalità marea cioè una mortalità folle è molto più simile ad un OSR ma con Memento Mori sono dei giochi profondamente diversi quando è uscito Memento Mori cos'era? 4 anni fa 3-4 anni fa io ci avevo giocato però non mi piaceva il fatto di giocare un appestato che dovevo morire ma per gusto personale perché esteticamente sono dei manuali di una bellezza folle folle poi sia Andrea che Marco hanno scritto c'è un bel gioco qua invece è totalmente diverso proprio il mood è totalmente diverso Marco totalmente e soprattutto qua ti siedi e giochi è un entry level di una facilità sconvolgente allora ho una domanda che probabilmente interessa solo a me sulle seconde scelte dei manuali chi è la persona giusta a cui chiedere? immagino Pedro Marchino scusami non ho capito cosa sono le seconde scelte dei manuali? cioè manuali che non sei convinto riprendere vuoi prendere sai che non ho capito che cosa che cosa intendi? non non ho capito scusami questo quindi se se mi spieghi magari posso essere più chiaro perdonami pensi di fare degli unboxing in futuro ad esempio mi sarà molto quello di Dune sì assolutamente tanto che stiamo preparando in sala in sala streaming un tavolo con la telecamera in alto messa messa verso il bazzo per per far vedere per far vedere che cosa che cosa fare cioè quindi scusami per vedere come sono gli unboxing voglio proprio voglio proprio fargli una cosa che mi piace che ci piace far vedere proprio il gioco come 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 funziona ok allora curiosità sui numeri percentuali cose del genere lo so delle curiosità strane sono nel senso sui numeri di vendita e altre cose sono cose che ovviamente non divulghiamo perché non possiamo dire quante ne stampiamo e altre cose ma sono numeri sensibili allora come stai Nicola sto bene grazie grazie ma factory sex ma intendi intendi prodotti fallati perdonami se sono i prodotti fallati è un altro un altro discorso i prodotti fallati ogni tanto ci arriva qualche prodotto che magari viene maciullato da dalle dai trasporti o stampato magari che c'è l'empaper stampato al contrario quelli di solito per fortuna sono molto pochi quando ci arrivano facciamo una zona tipo discount allo stand proprio proprio outlet allo stand ma in realtà sono molto molto pochi li vendiamo di solito al 50% del prezzo Marco non mi ricordo quanto al 30% in meno perché magari c'è la scatola che è rovinata o altre cose ma ce ne arrivano talmente pochi che di solito li usiamo come esposizione o demo anni fa ho giocato ulti a forza per savage world peste nera apocalisse zombie per rimanere in tema piaga si 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 ah scusa aveva già risposto Marco scusate ragazzi sto andando giù bello adoro gli unboxing sono ottimi a promozione di prodotti si assolutamente solo che l'unboxing di un manuale no è come far vedere un pdf cioè lo apro lo sfoglio non è che tutta sta cosa invece le scatole le stiamo facendo sempre di più maledette scatole allora sono 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 eccellenti invece i percentuali numeri dei faculty second si sono bassissimi ti risposto qua Marco avete qualche altra domanda o curiosità abbiamo 5 minuti quindi proprio proprio via considera che giusto questo giusto per chiederti per farti capire gli stampatori stampano sempre di più appunto per andare ad attutire le percentuali che possono venire fuori fallate per questo dico che ne abbiamo veramente molto poche di solito le fallate non sono quelle che arrivano direttamente dallo stampatore ma sono quelle che vengono causate per il trasporto cioè che sono rovinate ottone stai fuori e non spaccare male spero di aver risposto alla tua alla tua domanda questa esatto esatto Marchino veramente veramente pochissime cioè veramente veramente pochissime avete qualche altra domanda ok perfetto perfetto questa grazie scusami prima chiedessi se potevamo darti le percentuali di vendita o cose del genere no non avevo capito che le percentuali erano sui factory seconds poi ho connesso bene allora ruolatrice e ruolatori sono le 18.53 se non avete altre domande io chiuderei anche la live così posso andare a spapruzzarmi la mia la mia erede e il mio cagnolone vi ringrazio come sempre per essere stati essere stati con noi durante questa live spero che sia una stata una live divertente sia stata una live che vi abbia fatto pensare ai nostri prodotti vi abbia fatto capire meglio i nostri prodotti e le nostre attività noi ci vediamo lunedì hanno aspettato lunedì è pasquetta io tornerò a milano quindi sinceramente sono sincero non so se ci sarà se ci sarà il need details se ci sarà magari lo farò da casa mia a milano perché ho voglia di farlo e non ho impegni però in teoria è un giorno festivo quindi non siamo in azienda quindi non lo so ancora lo vedremo in giornata se no magari lo spostiamo al martedì si pasquetta sono in viaggio a fare otto ore di macchina perché devo andare a Reggio Emilia con mia figlia che devo portarla a a sua madre poi da lì devo prendere e tornare a Milano il giorno in pasquetta quindi mi farò otto ore in macchina però parto alle sette del mattino quindi spero di di fare di non trovare troppo o troppo traffico quindi sì me la faccio me la sparo in macchina detto ciò ragazzi ragazzi io vi ringrazio ci vediamo settimana prossima spero che questo weekend lo passiate a ruolare duro sempre noi questa sera ci sfonderemo di il castello degli Amber con Old School Essential non vedo non vedo l'ora spero che anche voi abbiate occasione di ruolare ci vediamo la prossima settimana o per una live a sorpresa per pasquetta se non sarò morto dal viaggio oppure ci vediamo mercoledì per la terza e penultima parte dell'avventura di Mouse Reader i ratti di Campo di Grano colgo l'occasione per augurarvi una buona Pasqua delle buone magnate con i vostri amici e la vostra famiglia è una bella pasquetta e come sapete quando si fa una bella grigliata pasquetta non ci dinti di meglio che portare delle schede belle slozze che ungerete tutte e dei dadi e farvi una bella sessione con i vostri amici e la vostra famiglia vi faccio tanti auguri e noi ci vediamo la prossima settimana ciao ragazzi e ragazzi buon weekend e buona Pasqua